Musica Amici di Attisport24, benvenuti ad una nuova puntata di Due Metri la Palla Notovista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi insieme a noi l'attaccante mancina dell'equipo Orizzonte Catania, Giulia Emmolo. Ciao Giulia, bentornata, è un piacere di trovarti. Ciao, ciao a tutti e grazie a te per l'invito. Giulia, partiamo da quello che è stato il finale della scorsa stagione. Il triunfo in campionato e la vittoria in Coppa Italia hanno certificato la vostra superiorità sul suolo nazionale in un'annata che definire complicata è forse riduttivo. Ti chiedo, da quali certezze riparte il nuovo ciclo dell'Orizzonte? Sicuramente è stato un anno complicato ma che ci ha dato tanto come gruppo, come forza di squadra. Il nuovo Orizzonte è composto da tante ragazze nuove, però anche l'osso duro è rimasto. Quindi la consapevolezza che nelle difficoltà si può uscire più forti, questa è una delle cose più importanti che ci portiamo dietro dall'anno scorso. Con quali ambizioni vi ripresentate ai nastri di partenza della nuova annata? Se faccio un riferimento al campionato, in questo momento potrei dire che l'Orizzonte potrebbe essere la rompiscatole che mina i piani del duello tra Roma e Padova. Non so se condividi la mia idea. È sempre stato un po' così negli ultimi anni. Ci sono queste quattro squadre che si giocano il posto nel rush finale. Sicuramente sarà un Orizzonte con tanta voglia di crescere, perché siamo un gruppo nuovo, abbiamo voglia di metterci in gioco e di divertirci soprattutto. La campagna acquisti ha arricchito l'organico con gli arrivi di Daphne Bettini, Veronica Gante e Bronti Mulligan. Quali caratteristiche portano in dote alla Rosa alle nuove arrivate? Ognuna ha la sua peculiarità. È bello perché giocare a fianco a delle ragazze molto giovani è stimolante, perché comunque anche loro con la loro giovinezza hanno da dare qualcosa a me, che quest'anno ad esempio sono la più grande della squadra e neanche me ne rendo conto perché siamo un bel gruppo e non c'è questa diversità di età. La ragazza australiana, Bronti, si è inserita benissimo nel gruppo e sono sicura che potrà darci una grandissima mano. L'altra novità significativa di quest'annata la introducevi anche tu nella risposta iniziale, completeranno il roster della prima squadra, quattro ragazze provenienti da un vivaio che l'anno scorso è doveroso sottolinearlo, ha fatto meraviglie, titolo under 20, titolo under 18. Quale consiglio senti di dare a queste ragazze alla vigilia dei primi impegni ufficiali? Tu che sei stata giovane pallannotista qualche anno fa. No, di godersi ogni attimo anche la difficoltà dell'allenamento, anche la partita più complicata, dalla partita dove magari tutto andrà bene, ci divertiremo, perché soprattutto in un momento storico come questo bisogna apprezzare tutto, dalle piccole cose a una fine di campionato. e quindi di divertirci col sorriso, apprezzare che siamo comunque fortunati a poter fare quello che più amiamo come sport e il nostro obiettivo di vita ora. Certo. Lo hai sottolineato già due volte, quindi mi provochi quasi a chiederti questa cosa. Che rappresenta nel tuo percorso di pallannotista ricoprire il ruolo di giocatrice più esperta della squadra? Potrei dire con un'immagine la chioccia del gruppo. Non la sono mai stata e non mi sento ancora così, perché anzi cerco di ringiovanirmi giorno dopo giorno, prendendo da loro quello che hanno di bello dell'essere giovani e spensierate. Voglio solo divertirmi, ecco, non impormi obiettivi o fissarmi delle cose che possono deviare il percorso. Godermela con loro, secondo me sarà un anno speciale. Potremmo dire che partita dopo partita dare il massimo e poi facciamo i conti alla fine, potrebbe essere questo lo slogan. Esatto, potrebbe essere questo lo slogan con serenità e sorriso. Da domani a domenica si inizia a fare sul serio, affrontate il girone preliminare di Coppa Italia. Quali risposte chiedete alla Tre Giorni di Firenze? Che cosa vi aspettate in ottica anche dell'inizio del campionato e di quella che sarà la Coppa Europea? È presto per poter parlare di obiettivi. Comunque abbiamo iniziato da pochissimo tutte e in più le ragazze che erano in ritiro con l'anzione giovanile sono arrivate lunedì. Quindi è proprio, lo posso vedere come un primo passo, come un trovarsi insieme, iniziare a lavorare in partite ufficiali, dopo mesi che non giocavamo insieme. Quindi senza troppe pressioni, fare quello che ci viene meglio e divertirci. Una delle novità più significative di questa stagione, incrociamo le dita, dovrebbe essere il ritorno a pieno regime del pubblico negli impianti. Che cosa cambia per voi avere i tifosi al vostro fianco? Tantissimo. Il pubblico è sempre stato l'uomo in più nelle partite e si è sentita la mancanza. Nonostante le finali scudetto con un limite, abbiamo riassaporato questo piacere di giocare di fronte a chi ci ama, a chi segue questo sport. Quindi con la speranza che questo possa andare sempre migliorando, per un atleta è bellissimo poter giocare in uno stadio pieno. È il sogno da bambino di poter giocare a una competizione ad alto livello con lo stadio pieno, con la tifoseria a favore e contro. Speriamo che vada tutto per il verso giusto e che le piscine possano tornare a essere di nuovo piene. Giulia, chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Dopo la Coppa Italia parteciperete al primo raduno collegiale della nuova stagione convocato dal Citticilipo. Come riparte il Sette Rosa? Potremmo, in termini di slogan, oggi andiamo di slogan in slogan, dire che è obiettivo mondiali? Sì, il primo appuntamento sarà a maggio col mondiale, quindi si riparte tra pochissimo. Felicissima di essere in convocazione, è sempre un onore comunque poter rappresentare la nostra nazione. Sono sicura che il lavoro che hanno fatto quest'estate, il lavoro che verrà fatto in preparazione fino a maggio porterà i suoi frutti. Il gruppo è un gruppo giovane, anche questo, molto omogeneo e si possono sognare e fare grandi cose. Va bene, con questo auspicio che noi ci auguriamo possa materializzarsi nelle soddisfazioni che il Sette Rosa merita, chiudiamo la nostra chiacchierata, ringrazio Giulia Emmolo per essere stata insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Giulia, grazie. Ciao, grazie a te.